Salve, ci risiamo. Ciao a tutti. Ci risiamo qua su It Takes Two. Dopo un bel po' di tempo siamo riusciti finalmente a vederci e quindi a registrare It Takes Two. Speriamo riuscire a registrare abbastanza. Insomma, comunque, andiamo avanti. Devo dire una cosa, il secondo tentativo di registrazione è questo, per colpa mia, perché mi sono dimenticato di collegare la presa del pc a questo e It Takes Two si è spento tutto perché si è scaricata la batteria giustamente. Sono scemo io e quindi andiamo. Andiamo. Ci ruffiamo qua dentro. Andiamo. Ci intrommiamo qua dentro. Questa è la serie dell'intrommamento. Allora. 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 Ferma. Ma com'era? Perché... No, com'era? Qua si è spenta che siamo arrivati qui, quindi non lo sappiamo com'era. Semplicemente... Allora. Quello che sappiamo... Che dobbiamo arrivare là. Sì, e che non dobbiamo cadere nella... Nella merda verde. E quindi, scusate. Allora. Io sono uscita Hulk, praticamente. Sì. Allora, io voglio fare... No. Volevo fare il doppio salto in una certa maniera. Aspetta, ci provo, eh. Oh, ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati. Wow. Ok. Eh... Eh, la stessa cosa? Eh... Ok. Oh. Ciao. Ok. Oh. Allora. Ecco, il triangolo è per questa e tu. Stai qua, io sto là. Ehi, Ale. Una bimba. Ehi, siamo tutti rose. Rose, viene qua. Eh, ci sono raro. Eh... No. Scusate. Ecco, le cose che... Ecco... Ecco, non leggo la scritta. Ah. L'amici attrezzi. Ah. e vabbè ok oh la rugge eh infatti perché è da tempo liquidizzato ecco sono abbandonati perché dimenticati aspetta ora quello gli tira il chiodo ok però a fischiare ah mi sa che adesso abbiamo ognuno di noi un attrezzo una cosa diversa tu c'hai il martello e io c'ho il chiodo che dobbiamo fare non lo so però intanto L2 Maron allora L2 no no io devo mirare con L2 tu devi usare il martello ecco tu sempre ti pianti i chiodi allora io devo mirare dove mira il dito eh non mi non ho presente dove devo mirare è il cerchio ma quello blu no il cerchio blu è tu gioia ah ok va bene non l'ha detto perché l'ha detto dove devo mirare però mi sa che non è qua che dobbiamo mirare mi sa che ora dobbiamo scendere ok amore io non ti sto capendo niente perché mi sto confondendo tu devi guardare il lato destro guarda il lato destro cioè il lato destro scusa che sto dicendo il sinistro la sinistra guarda come siamo con il suo lato sinistro lato destro allora guarda quello allora aspetta aspetta fammi capire lo faccio questo aspetta 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 scusate piccolo taglio tranquillo voi avrete visto soltanto un piccolo taglio però capita telefonate ci sta allora forse tu devi venire qua vedi qua dove sono io prova a dare una martellata su questo coso giallo ecco però senza cadere non dovevi cadere ma che c'entra io non sono caduto si è aperto qua no no è di tipo caduto ma che dovevo fare da qui senza metterti no ah scusa ecco da qui ok ecco e infatti allora fammi no 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 c'è rifallo ah vedi ok ti portai all'altra parte da tutti sì 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 ok ok dai dai no no boom a posto sei vieni qua vieni qua è aperta no è che si è aperta il coso ha fatto alzare questa piattaforma e io col chiodo l'ho tenuta ferma ah ok adesso richiamo il chiodo me lo prendo ok allora no bene eh no quale devi fare tu qualcosa su quello ah no aspetta ok no 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 che stai facendo tesoro mium dobbiamo andare di là dovete cioè devi forse in qualche modo aggrapparti a quello ma dove hai detto blu lo vedi dove c'è il pallino blu pallino blu sì dove hai detto ah io lo vedo come pallino blu io non lo vedo ah tu lo vedi come un'altra cosa lo vedi ah ah non fuori non fuori vedo devi saltare e andare di là tu devi andare di là sì beh riprovaci devi saltare forse saltando il momento giusto vai di là allora ora vediamo quanto ci devo stare perché tu fai subito ta 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 invece oh care invece salta lì sì vai dai ok hai stile mi grazie allora io devo fare allora ta dovrai fare forse qualcosa ma non so cosa allora e tu non vuoi? eh devo cercare cerco di capirlo eh ma tu non puoi passare no io di là no dovrai fare tu qualcosa aspetta aspetta non ho capito ho capito io ti pianto un chiodo là e ah esatto la stessa cosa poco fa penso sì io ho caduto va bene e tu devi fare sì quella cosa là però ok calma calma il problema è che io ho sta roba di mezzo mi però ok premi premi eh aspetta forse perché tu fai tu 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 puoi fare magari premi un primo salto aspetti qualche un attimo ta ta tipo notare che ti dura di più il salto non lo so cioè allora là c'è qualcosa aspetta aspetta no secondo me è giusto come dici tu no sennò io che devo un attimino non lo capire aspetta no no sai quel discorso secondo me aspetta ultima tentativa è basta vabbè provaci poi ok ma ho capito allora fammi non andare fammi richiamare il chiodo devi spostare un po' e prova a spostare ecco no sì perché fallo là ecco così sei magari più vicino a lì mi chiamo ecco oh perfetto ok adesso poi dovrà ah ok eh trovo r3 r3 trova me trova codi ti indica la ah vabbè non ti preoccupare ok fermo ok di nuovo allora adesso devo piantare devo piantarti il chiodo là ah per prima ah per prima devo richiamarlo ok perfetto ti pianto il chiodo là e dovresti poterlo allora r2 ah no è troppo adesso aspetta ma veramente allora ta ta r2 allora forse aspetta avvicinati provate premuto r2 no no come ti aspetta un altro poco che ti devo dire eh allora forse vediamo invece forse provo a metterlo un po' più in basso ok ma allora però tono per deve essere preciso anche te col oh lo vedi dai ok ok te devi fare qualche cosa te allora te primo tenuto ok e qua c'è un altro chiodo altre munizioni dice sì perché ok e ora ce ne ho due di chiodi allora te devi andare di là è solo che io poi di qua non ti vedo però ah farai bu sì io andavo a cadere per eh ok allora e che fa eh boh ah sarà quello cosa questo sì ma sai qual è il problema aspetta io da qui devo vedere se c'è un modo e tu come vieni è quello il fuoco scorso io quello è il problema o devo essere pentinale io o non lo so o non lo so devo trovare io o forse devi prima di fare questo forse devi mi sa devi fare qualcos'altro qua devi consentirmi un attimo di allora ma re può essere che devi piantare un chiodo qua per qualche alcano motivo aspetta aspetta sto marchigianio per me c'entra qualcosa ah ok 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 ho capito ho capito ah qua c'è un altro è prova a maccare la macca 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 poi io bambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Audi Continua, continua, continua Ehi, ok A posto, e siamo tutti due qua Ok, adesso si può Fai tu, sale tu o faccio io Adesso, no perché tu devi Allora Dà una martellata qua Vuoi vedere? Ok, perfetto Quello sale e quello scende Non ho capito, allora Dà una martellata Oh, e questa è una, è piazzato Poi Ah, il chiodo Ferma, non farlo adesso che se un po' non ci arriviamo Allora Eh mica, però c'è il problema che Forse deve farne prima di qua A sinistra Ah, no, no, aspetta Fammi vedere un attimo una cosa Fammi vedere un attimo una cosa Ah, ok, si può salire da qua Perfetto, ok Adesso, ora, al momento giusto Tu dà una martellata là Questo salirà di più E io gli pianterò il chiodo per Ah Per tenerlo fermo Perfetto Martella Bommete, a posto Ok, blocca di entrambi Perfetto Possiamo salire a scala Esatto Ok Ecco Ok Oh Voilà Mi riprendo I chiodi I chiodi Ah C'è la possibilità che se mi colpisce a me con la martellata Mi pianti a terra E io rimango Qua Ok Ora qua Ok, qua Ognuno il suo No, tu l'all'altro lato Ok 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 Che È arrivato Il libro dell'amore Il libro dell'amore Amore Dall'amore La sfida Ah Sì perché poi Quello ricordo che ci sono anche giochetti in cui ti puoi fare tipo piccola sfida io contro te E poi che vinco Penso nulla però vabbè Ti fa Prima mi sa dobbiamo farlo per forza Comunque Ora Ok Ora Cosa Poi tra un molto Devo fermarci Fra un molto Devo fermarci E fa bene E che devo fare Allora Aspetta Tu sai Ok Prendi il triangolo tu Ma come Io provo il triangolo ok E questo è il giochino Praticamente guarda Acchiappacodi Ok Ho Mi sto sfogando praticamente Vinciuto io Sì vabbè che dici Cody Ah Cody E vedete che non ti voglio fare male Eh sì Eh sì Allora io direi Saltando da qua Poi E poi E poi E mo E mo pensiamo di là Olè Quanto sei arrivati Ok Aspetta un attimo che voglio capire che Tra E andiamo di qua Ok Ok E E E qua Poi io tanto me lo richiamo Tanto ormai Allora Posso Devo bloccare qualcosa Aspetta No Ma che è Cos'è che trema Non riesco a capire perché Ah forse sono io Guarda ma Guarda ma perché Amo Guarda ma perché è un uovo Ah Ah Eh Tadadana Allora Cosa c'è qua Boh Ah Ok Ho capito Bisogna Bisogna farlo in qualche modo Alzare sto coso E io poi lo pianto per fermarlo Però Aspetta com'era Ma come Aspetta C'era un modo per Ah ecco Sghiacciare Però Boh Aspetta fammi Fa un cacchio Non Non è molto chiaro Aspetta 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 un attimo Ok Penso aver capito Di là Io devo andare di là Esatto Pianti i chiodi E vado Ok Devi fare un po' Due due Salta Due due Perfetto A posto A posto Ah beh I chiodi sono là Sono fattibili Ho sciato Sull'asse Esatto Dai Bene Ok Perfetto Ora tu dovrai Proseguire E andare all'altro lato Proseguire Dove stai andando Perfetto A posto No no Mi tolgo in sotto Perché mi sembrava che Ha passato aperto la porta Ah Devo scendere Eh sì Devi scendere là dietro Ok 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 Dai una martellata Ah Aspetta Di nuovo Rival Ok Ah Aspetta Forse ho capito Tu ti devo fare saltare là sopra Vai A posto Quindi Ah è ok E quindi faccio Ah è là dentro Faccio così Non tornare indietro Oh Perfetto Ok Ora Ora Aspetta Facciamo una cosa Diciamo Che un Per una cosa Per un'altra Facciamo che per ora Chiudiamo qui questo episodio Proseguiamo Prostima puntata Proseguiamo E andiamo avanti Sì sì infatti Tenisci Tanto no Si inizierà Piantando questa cosa qua Ok Dando martellate Lei martella Io pianto Ok Comunque Detto questo Direi che noi Per oggi Per questo puntato Possiamo fermarci qui In qualche maniera Siamo andati avanti Esatto Un minimo In qualche maniera Andiamo avanti Bu Forse chi lo sa Vedremo Detto questo Molto felicemente Salve tutti quanti voi Ciao a tutti E alla prossima